questa è la cucina con il tavolo dove si possono consumare le pietanze primi parte e lì vabbè il mio computer e qui ci sarà tutto veramente l'indispensabile ed è molto molto carina la cucina e questo è il bagno che è piccolino ma funzionale poi qui c'è il letto della stanza quando si dice che in all'est nell'est europa fa sempre il tempo di merda ecco qua e niente avete visto anche la casetta mia in romania vabbè ad ogni modo adesso la mia fidanzata ha finito il trucco il parrucco vabbè ragazzi vabbè dobbiamo andare al parco oggi è domenica ma parrà poi da domani love we are in cancel ciao 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 ciao